Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnase Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Qualche problema in Fipili, dove troviamo 3 km di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina nella carreggiata in direzione di Livorno. Rallentamenti per cantieri anche tra Ponte d'Eraest e Gello, ancora una volta in direzione Mare. Per la cantieristica ricordiamo che sulla SR70, fino al 16 giugno per lavori, il traffico è interdetto ai mezzi pesanti tra le località Palaie e Consuma. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario e informiamo che le biglietterie di Certaldo e Orbetello quest'oggi sono chiuse al pubblico. Prima di salutarci per il traffico aereo, quest'oggi sono cancellati i voli di Firenze-Parigi delle 12.10, delle 15.15, delle 17.40 e delle 20.25. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!